Buonasera da Massimo Barchiesi che vi parla dagli studi di Saxarubra grazie alla collaborazione tecnica di Alessandro Campanella tra pochi minuti sarà Milan-Napoli a San Siro una partita molto attesa con punti pesanti in palio con il Milan in questo momento a meno 9 dall'Inter Buonasera da Alberto Rimetti Allo stadio olimpico nello scontro diretto Di Lorenzo dentro interessante c'è la conclusione di Zialischi la parata di Donnarumma opportunità per il Napoli al sedicesimo minuto con Piotr Zialischi che ha controllato il pallone sul servizio di Di Lorenzo in mezzo nel cuore della difesa tra Tomori e Gabbia qui se l'è vista brutta il Milan Fabian Ruiz cambia gioco perché dall'altra parte c'è in segna controlla il pallone con il petto dopo averlo fatto rimbalzare ancora dallo su di lui Piotr Zialischi conclusione pallone sul fondo Zialischi occasionissima per il Napoli con il piatto sinistro ha cercato l'angolino basso alla sinistra di Donnarumma non ha trovato la porta Per poco occasionissima per il Napoli di portarsi in vantaggio alla mezz'ora di gioco e Leao da questi a Castiglieco ecco lo spagnolo arrivato ad altezza del vertice destro dell'area pallone interessante Leao carica il destro centrale Ospina para in due tempi ed ora si è rivisto il Milan dalle parti di Ospina occhio al Napoli però che riparte minaccioso Politano aria di rigore Politano con il destro Rete Napoli in vantaggio al quarto minuto del secondo tempo ha segnato il Napoli con Politano ottavo gol in campionato per Matteo Politano con il destro non è il suo piede non ha calciato benissimo ma alla fine in modo efficace perché il pallone Se è insacchiato nell'angolino basso alla destra di Donnarumma e dunque il Napoli sblocca il risultato e direi con merito è in vantaggio Milan 0 Napoli 1 Eh sì con merito e tutto abbiamo visto come si è sviluppata questa azione con Teo Hernandez che era già in uscita chiaramente ha perso il contatto con Politano Il Napoli ha recuperato il pallone subito hanno verticalizzato per Politano che calcia malissimo però però davvero prende la traiettoria dove non può arrivare Donnarumma il Milan si è fatto sorprendere con tutta la difesa messa male in questa ripartenza del Napoli Sì peggio di così non poteva tirare Politano però a volte sono qui tiri sporchi che ingannano i partieri avversari Sì sì assolutamente perché davvero sappiamo che non è il suo piede è un mancino puro ha calciato davvero male però sono quelle situazioni che se la prendi bene davvero il portiere la prende invece così proprio non c'è potuto arrivare Donnarumma Eh io vorrei anche sottolineare Massimo l'assist di Zielischi tanto per cambiare e quindi a questo punto raggiunge il suo record di 12 partecipazioni nei gol del Napoli abbiamo detto che Zielischi ha realizzato 6 gol in questo campionato e adesso sono altrettanti gli assist Eh sì giocatore completo e visto come gioca con entrambi i piedi facilità proprio di vedere il compagno sbarcato mette una grande palla ripeto il Milan si è fatto sorprendere Conte Hernandez che era uscito per fare la fase offensiva però lì dovevano scalare in un modo diverso però il Napoli sta meritando questo 1-0 E' mancato l'ultimo passaggio al Napoli nel primo tempo l'ultimo passaggio è arrivato Esatto Questo avvio di ripresa di Zielischi per Politano che all'interno dell'area di rigore ha calciato abbiamo detto male ma in modo efficace pallone che si è insaccato nell'angolino basso alla destra di Donnarumma che si era proteso in tuffo nel tentativo di intercettare il pallone calciato con il destro quindi non con il piede preferito da Matteo Politano ma abbiamo detto in modo vincente quello che conta per il Napoli è il gol il pallone in rete quindi 1-0 in favore della formazione di Rino Gattuso Ancora Napoli con Politano Tomori deviazione Fabian Ruiz Donnarumma protezza ancora Fabian Ruiz L'intervento da parte di Dalò ultimo tocco di Fabian Ruiz e Donnarumma ha evitato il gol del 2-0 Napoli vicinissimo al raddoppio con Fabian Ruiz di collo pieno ha calciato Donnarumma si è disteso prima con la mano destra poi con la gamba sinistra ha deviato il pallone si è affiondato nuovamente Fabian Ruiz con la toccata allo spagnolo l'ultimo tocco è suo pallone sul fondo vediamo Insigne, Insigne va via, Insigne, Insigne, era di rigore prova a scavalcare Donnarumma pallone alto il piatto destro di Lorenzo Insigne, solitamente dall'interno dell'area di rigore lui ha questo tipo di giocata stavolta a calciare, appena entrato proprio, appena entrato all'interno dell'area di rigore ha provato a piazzare il pallone sul secondo palo ma ha alzato troppo la mira vediamo il Milan, Rebic in mezzo per Leao, conclusione la parata di Ospina e qui primo errore del match di Coulibaly che si è fatto scavalcare dal pallone ma Leao ha impattato male però parte Tonali, il cross, la deviazione di testa di Rebic se non vado errato è distinto Spina respinto, occasione per il Milan minuti conclusivi del match del Meazza, i decisivi Tonali dalla bandierina sta per far partire il suo destro a rientrare l'ex giocatore del Brescia eccolo il cross, mischia, non controlla Teo Hernandez, sale Meekers murato poi ancora pallone all'indietro, Brahim Diaz c'è un intervento su Teo Hernandez, protestano i giocatori del Milan si gioca, vedremo un po' come andrà a finire però vedremo se il VAR si sta, si è già attivato ancora il Milan che manovra, parte il cross, Coulibaly a mettere fuori c'è Insigne che conserva il possesso del pallone esterno destro per Osimene Osimene, entrataccia, entrataccia di Teo Hernandez arriva il direttore di gara Pasqua viene anche sgambettato, va giù pure Pasqua cade Pasqua, sgambettato involontariamente da Mario Rui si rialza Pasqua, va a chiedere scusa al direttore di gara fatto sta che c'è stato un brutto intervento di Teo Hernandez ai danni di Osimene vedremo un po' quale sarà il colore del cartellino Massimo sì, sì Massimo e devo dirti è un giocatore fantastico però se gli devo trovare un difetto che spesso entra a grandi velocità e scomposto e rischi veramente di far male io credo che qui ora dobbiamo rivederlo ci possa stare anche il rosso perché mi è sembrato veramente un brutto fallo allora, siamo al 42esimo minuto del corso della ripresa se la cava con un giallo, credo sì, Teo Hernandez vediamo un po', il gioco è fermo ha monito Teo Hernandez per questa entrata ai danni di Osimene secondo me questo è un intervento da cartellino rosso Massimo ah sì, qui non è prendersi violentissimo esatto ha il rischio di spaccargli la caviglia è stato monito solo Teo Hernandez ma questo poi ce lo dirà Filippo Grassia magari tra poco per l'amo viola di Milan-Napoli ma qui è gioco violento a mio avviso assolutamente, sono d'accordo con te questo è un bruttissimo fallo ci stava il rosso e credo che il signor Pasqua abbia sbagliato nel frattempo l'intervento di Bakayoko su Teo Hernandez di qualche istante fa dicevamo Var in azione il gioco è fermo stiamo rivedendo le immagini del contrasto nell'area di rigore del Napoli ma non mi sembra che ci sia stato contatto sinceramente rivedendolo mi sembra che non si siano toccati però magari ci sono altre immagini si sta discutendo però vedo l'arbitro che sta discutendo con Mazzoleni la coppia Mazzoleni-Paganessi Var e assistente Var vediamo un po' il gioco è fermo dunque il gioco è fermo c'è molto nervosismo anche a bordo campo siamo giunti al quarantatresimo minuto nel corso del secondo tempo con le squadre che sono in attesa di riprendere il gioco soprattutto di conoscere la decisione dell'arbitro dell'arbitro Pasqua perché si sta valutando continua a parlare continua a parlare in modo fitto con Mazzoleni va a vedere va a rivedere attenzione va a rivedere l'azione precedente l'azione incriminata va a rivedere qui si decide la partita Baccaio Co su Teo Hernandez allora un punto un tocco c'è stato forse una leggera puntatina esatto esatto ho visto la stessa cosa anch'io però mi sembrava mi sembra giusto allora non è infatti non è credo che abbia ragione credo che abbia ragione in questo caso attenzione perché qui c'è cartellino rosso nei confronti di Aterebi ci ha detto qualche cosa di brutto all'arbitro non ci sono altre spiegazioni sì sì ha detto sicuramente una frase una frase offensiva verso l'arbitro che era lì a 5 metri e vengono punite queste frasi brutte qui il nervosismo direbbe c'è però il Mila è in difficoltà bisogna anche pensare ahia brutta brutta non si può tradurre si è capito però che gli ha detto non si può tradurre siamo alla radio non si può tradurre e quindi cartellino rosso che ci sta tutto assolutamente eh sì Milan che chiude in 10 vediamo il Napoli che gestisce il possesso del pallone di Lorenzo parte il cross Osimene si gira al volo pallone fuori di un soffio vorrebbe l'angolo vorrebbe il tocco di Donnarumma Osimene che meraviglia però Massimo che meraviglia coordinato la perfezione bellissimo non ci sarebbe mai potuto arrivare Donnarumma fortunato che la palla è fuori dallo specchio grande la conclusione di Osimene stupenda conclusione di Victor Osimene pallone di un soffio al lato Napoli vicinissimo al 2 a 0 48 e 35 si gruderà il cinquantesimo Napoli in vantaggio per 1 a 0 lungo che comincia in questo momento il Napoli in vantaggio per 1 a 0 ancora rimessa in zona d'attacco lungo l'out di destra per il Milan Dalot con le mani nuovamente dentro l'area di rigore a cercare fortuna colpo di destra di Fabian Ruiz colpo di destra di Maximovic Teo Hernandez ci prova ancora Osimene a ribattere Tonnarumma alla caccia del pallone al volo su Insigne mette in movimento Dalot parte un crossaccio di Dalot pallone direttamente oltre la linea di fondo campo a 40 secondi dal termine della partita grande tensione a bordo campo con Rino Gattuso che va su e giù all'interno della propria area tecnica con Stefano Pioli che ancora ha la forza la voce per dare delle indicazioni tattiche ai suoi giocatori rimessa di Ospina 15 secondi al termine dei 5 di recupero e quindi al termine della partita vediamo Ospina che perde qualche secondo prezioso e rinvia in questo momento pallone dalle parti di Osimene colpo di testa Insigne la mette giù e il Napoli deve soltanto conservare il possesso del pallone va via Insigne va via Insigne anche a Dalot aere di rigore arriva Tomori angolo per il Napoli che insomma è una gran bella notizia questa per il Napoli questo calcio d'angolo conquistato al cinquantesimo minuto si gioca ancora extra recupero concesso da Pasqua ma il Napoli non deve fare altro che restare lì in calcio d'angolo all'altezza della bandierina con Insigne e con Elmas che è lì angolo corto chiaramente non getta il pallone in area di rigore il Napoli saggiamente ancora Elmas Elmas in due su di lui si lotta all'altezza della bandierina in calcio d'angolo ultimo tocco di Insigne rimessa per il Milan vedremo se c'è ancora tempo per un ultimo affondo dei rossoneri 95 minuti 42 secondi quindi siamo 45 secondi oltre i 5 di recupero assegnati da Pasqua non c'è più tempo è finita almeazza il Napoli espugna San Siro e batte il Milan per 1 a 0 e si rilancia clamorosamente nella corsa alla Champions League perché ora sale a quota 50 punti raggiunge la Roma al quinto posto della classifica ed è a meno 2 dall'Atalanta che è quarta ma ricordiamo che il Napoli dovrà recuperare il match contro la Juventus il prossimo 7 di aprile il Milan resta al secondo posto staccatissimo ormai dall'Inter in totale fuga meno 9 per il Milan dall'Inter la Juventus è lì a una lunghezza dalla formazione di Stefano Pioli ha deciso la rete di Politano al quarto della ripresa Massimo Romano eh sì Massimo c'è poco da dire il Napoli ha meritato specialmente fino al gol dell'1-0 ha giocato un grande calcio ha avuto le grandi occasioni poi il Milan è venuto fuori più che altro con la forza della disperazione non con un bel calcio ma ci ha creduto fino in fondo ha avuto anche delle chance però diciamo che l'1-0 è meritato il Napoli ritorna bella la corsa per la Champions League adesso ci sono diverse squadre sarà battaglia fino alla fine ed è stata la vittoria anche di Rino Gattuso per la prima volta da avversario del Milan a San Siro è uscito vincitore dalla scala del calcio grazie a Massimo Orlando per aver collaborato con me in cronaca grazie Massimo ciao Massimo e buona serata a tutti grazie dunque a Massimo Orlando io ringrazio Alessandro Campanella alla parte tecnica è tutto per Milan Napoli ha vinto il Napoli per 1-0 da Massimo Barchesi la più cordiale buonanotte